Primo tempo Bologna-Inter. Intanto voglio fare prima lo sportivo stranamente e complimenti al Bologna che è una squadra che lotta per non retrocedere, una squadra che sguazza nei bassi fondi delle classifiche, però non rinuncia di giocare il proprio gioco, la propria idea di gioco. Non entrate in campo con l'obiettivo di fare un misero punto, di bloccare l'Inter sullo 0-0, quindi è sempre piacevole vedere queste squadre, non l'Udinese della situazione che ti fa cadere. Dopo magari hanno ragione loro perché un punto lo riportano contro l'Inter primo in classifica, però è l'anticalcio, il calcio deve essere anche un po' più frivolo, deve essere un po' più spensierato, deve essere uno spettacolo. Uno spettacolo. Voi andreste al cinema a vedere uno spettacolo noioso? C'è un filone di cinema che si basa sulla noia? Che tu dici, ah che bello, mi sono andato là e mi sono rotti i coglioni. No, no, il cinema deve andare. Qualsiasi tipo di spettacolo, il cinema, il teatro, piuttosto che un concerto, cioè non esiste, non esiste il lineage della noia. Quindi, onore al Bologna e parliamo dell'Inter. Quello che mi piace dell'Inter è che senza fare nulla, senza sforzarsi, riesce a riportarsi un 1-0 al primo tempo senza aver fatto praticamente niente, ok? Magari in una situazione molto più tragica, cioè una situazione di classifica dove eravamo terzi, quarti, avrei detto stiamo facendo cagare, stiamo facendo pena, non abbiamo fatto nulla. Però ragazzi, siamo 1-0 a fine primo tempo, quindi di che cosa mi dovrei lamentare senza fare nulla? Figuratevi se iniziamo a giocare. Solo due pecche, due pecche, non stanno giocando peggio degli altri, ma io da Eriksen e Hakimi mi aspetto molto ma molto di più. Non perché stanno facendo meno bene degli altri, perché stanno facendo come gli altri. Io invece pretendo da loro molto ma molto di più perché sono due potenti campioni. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, buona Pasqua Obipronobis e ci vediamo per il secondo tempo. Dopo se mi gira facciamo anche una live. Ciao!